Camillo Colella, dalle acque minerali alle miniere alla moda, il passo è stato breve oppure c'era già qualcosa di pronto da tempo e lei ci ha riservato una sorpresa? Sì, da tempo stiamo lavorando in questa idea, in questo progetto e speravamo che questa azienda ripartisse negli ultimi due anni, invece è successo il contrario, mi sembra che io giro un po' per tutta l'Italia e investo in tutta Italia con risultati importanti ma anche con tanto sacrificio. Chiaramente ci siamo sentiti un po' in dovere, un po' come Molisano, un po' come in un settore dove vedo possibili successi economici, imprenditoriali in questo mondo della moda. E' anche collegato al progetto del alberghiero che su Roma sto realizzando negli ultimi due o tre anni, abbiamo realizzato tre o quattro strutture dicettive di lusso nel centro di Roma e quindi questo sposa anche bene con la moda, col tessile e con il discorso alberghiero. E quindi puntare appunto in questo territorio dove ci sono delle risorse molto importanti, proprio a livello risorse umane, che hanno negli anni, si sono ben dimostrate in Italia ma anche all'estero con dei risultati importantissimi e con un'autorità che hanno dato all'ITR nel mondo, facendo conoscere anche Molisano. La sua è una proposta alternativa a quella di KF che è stata criticata per il basso numero di occupati che nei primi sei mesi sarebbero stati reimpiegati, la sua invece da che numeri ripartirà? La mia proposta è quella di costruire una NUCO che compra un ramo d'azienda, qualora ci venga autorizzata, per 3.200.000 euro da pagare in due anni e in più comprare il magazzino in conto estimatorio, a valore di perizia stimata dal giudice, salvo due di licenze da fare, qualora ci autorizzano ci permetteranno di accedere all'ITR, di verificare contro appunto quello che io non posso entrare, oggi ancora c'è un proprietario di questa azienda che è inconcordato che è il signor Gera Bianchi. E come numeri di lavoratori di che cosa parliamo? Adesso abbiamo già un piano industriale, però lo dobbiamo ancora un po' perfezionare perché è proprio delegato a questa visita, a questa due diligence, chiaramente prevede un investimento di circa 10.000 euro in questa azienda per marchi, per avviamento, per attività eccetera, che ci permetterà appunto di ripartire e anche se questo piano sarà anche in funzione delle commesse, perché a giugno è il termine, quello che sono i tempi della moda rispetto a giugno, a Milano si decide, ci si incontra con gli imprenditori della moda proprio per acquisire commesse e in funzione di questo e dei marchi si può decidere meglio, quindi si può decidere meglio sui numeri, noi puntiamo, chiaramente si parte da zero, non vogliamo illudere nessuno perché ci piace mantenere gli impegni che prendiamo, e rispettare finalmente chi lavora per noi e con noi, però siamo molto entusiasti, siamo molto fiduciosi perché io da imprenditore oggi posso dire non esperto in questo settore, però chiaramente mi sta vicino un team di imprenditori della moda, tra cui Arcaro che mi ha autorizzato a fare il suo nome appunto come esperto, come manager e tutto quanto per avere maggior forza e maggior sostegno per far ripartire questa azienda, perché è la verità che l'azienda possiamo considerare la ferma. Nella sua nota stampa si parla appunto di manager della moda che la affiancheranno, lei ha parlato d'Arcaro, quindi si parla anche di acquisizione forse del marchio Rifle che è gestito d'Arcaro stesso o per il momento è ancora presto? No, ci sono una serie di marchi di interesse perché i marchi sono troppo importanti per ripartire, bisogna investire in quella direzione perché proprio quei marchi puoi vendere di più e puoi prendere più commesse e si va più sul sicuro di fare un lavoro costruttivo e moltiplicativo, cioè l'obiettivo è proprio quello di cercare di recuperare velocemente il tempo perduto, chiaramente c'è un progetto che va fino al 2017 perché questo anno lo possiamo considerare di avviamento. Sempre nella sua nota stampa si parla di un duplice polo tessile, ci può spiegare un po' meglio come sarebbe articolato il progetto ITR di Colilla? Sì, le sinergie del nostro gruppo, questa azienda qui di Monteroduni che è appunto dove noi abbiamo gli uffici, la holding e tutto quanto, collegata a Milano-Roma dove abbiamo rapporti, conoscenze a tutti i livelli e collegata anche all'ITR attuale perché partire da ITR, da Pettoranello per essere precisi, significa guadagnare almeno un anno, almeno sei mesi per non dire un anno, però partire da là si parte presto, subito perché già più o meno è tutto pronto. Però fare sinergie perché qui abbiamo anche qui spazi, magazzini, e per cui è anche cercare di attrarre altri imprenditori della moda e fare proprio un polo tessile e anche puntare con l'università coinvolgendo anche l'università del territorio che farebbero, a mio giudizio, un buon investimento culturale formando in questo settore tessile della moda dove tutti i paesi emergenti e il lusso è l'unico settore in questo momento di crisi che sta trainando con risultati molto positivi. Sappiamo benissimo che il made in Italy, il food, la moda e il discorso del lusso sta avendo notevoli successi in tutto il mondo e quindi questi sono i settori che nel futuro ci permetteranno, come italiani, come imprenditori, per riprendere l'economia. Quindi la produzione in pratica resterebbe a Pettoranello, qui a Monteroduni il deposito e un'altra serie di locali. Sì, si sta ipotizzando qui un magazzino, ormai sono lì e restano lì, ma poi pian piano con gradualità cercare di far funzionare tutte e due le strutture ottimizzando la holding, il personale nostro e anche sinergicamente con tutti i professionisti e i dirigenti che dall'altra parte da anni sanno cosa fare e fanno bene il proprio lavoro in quel mondo. Insomma è una scommessa in cui lei crede sul serio, ce la può fare ETR a ripartire, a ritornare ai fassi di un tempo? Io credo di sì, perché di sfide ne ho fatte diverse, anche in settori diversi, però devo dire che con gradualità negli anni poi alla fine il risultato arriva, è arrivato nel mondo dell'industria dell'acqua minerale con Santa Croce che è un'azienda nazionale che oggi fa utili, ha ripagato tutti i debiti quindi ha avuto un grosso risultato nonostante c'erano anche lì tanti problemi 5 anni fa quando siamo entrati. Per cui con gradualità e con impegno credo che abbiamo le capacità, l'esperienza, il patrimonio e la solidità per fare, per investire in questa direzione. Ci auguriamo che anche le autorità tutte al di là dei colori che non ci interessano sul lavoro, che ci stiano vicine per poter far ripartire il Molise appunto da Pettoranello e dare un'immagine anche esterna di capacità imprenditoriale e di successo.